Qual è il tuo centrocampista o altro giocatore di riferimento che Liam Henderson da piccolo guardava e sognava di imitare? I admire a lot of midfielders, a lot of been growing up, Steven Gerrard being one, he's now the manager of the Rangers in Scotland, no, but he was my big idol when I was growing up. My dad also, my dad and my family have also had a big influence on my career, they've been nothing but supportive, my dad, my mum and my two little brothers, they've been great as well, but no, Steven Gerrard is definitely my main idol. Siamo tanti giocatori, tanto centrocampisti, soprattutto Steven Gerrard era il mio idolo che adesso fa l'anamento a Glasgow Rangers. e devo dire anche che il mio padre, la mia famiglia è sempre importante per la mia crescita. Ciao Liam, benvenuto. Davide Keylotto, Telearena. Tu arrivi dai Celtic. Sai che tra il Verona e i Celtic c'è questa grande passione, insomma questa unione anche tra le tifuserie. Non so se te l'hanno raccontato. E come ti è sembrato il tifo del Pente Lodi? No, I was just talking about it through there that I've been, the squads that I've played for, I've played for Celtic, Cavernian, Rosenborg, Barry and obviously now Hellas. And I've been extremely fortunate, the supporters are all extremely similar. They're all very, very passionate about their club and they're great supporters. You can see the supporters here on the weekend there against Padova, they were very, very passionate and they sang the full game. So it's been a privilege for me to play for the previous clubs that I've been and now it's a privilege for me to play here in Hellas Verona. Sì, sono molto fortunato perché ho giocato per tanti, per alcuni squadri con tifosteria uguale, molto appassionati. Abbiamo visto anche domenica come sono i tifosi di Hellas Verona cantando fino alla fine. Ok, hai detto ovviamente che conosci molto bene Fabio Grosso, ti ha già allenato per sei mesi. Ti chiedo, quanto ci vuole ancora secondo te per vedere il calcio che vuole Fabio Grosso? Perché il Verona è sembrato un po' in ritardo in queste ultime partite e contro il Padova. Sì, quello che vuole è sembrato? No, I mean, all good things take time. Good things, great things don't happen overnight. I mean, as I've said before, it's a new squad with new players, but you can see, I can see anyway from being here in a short period of time that everyone's together, everyone has a laugh, everyone has a joke in the changing room. No, the most important thing is we come every day and we work hard on the training pitch and then I'm pretty, pretty sure in a short space of time we'll see a real team that wants to fight, wants to battle, wants to play some lovely football on the pitch as well. So no, I think you just continue to work hard and then the good things come. I think we need a little bit of time. These things don't happen the next day, but we need a little bit of time. we working hard and we need to help groups we build hard and we'll see ourselves without a fighting, so we can't be in the team that like we shouldn't be in a shooting game and playing as well. L'anno scorso col Bari hai lottato per andare in Serie A, la promozione in Serie A, rispetto a quella squadra, quanto vale questo Verona ed è pronto per lottare per andare in Serie A? La prima volta in Serie A, rispetto a quella squadra, quanto vale la domanda per andare in Serie A? È sempre la question che viene chiamata quando sei per un club come Hellas Verona, ma credo che dal manager e dal giro, ci sono solo un gioco a un gioco, la prossima è la più importante gioco e se possiamo fare questo, e penso che, come l'anno l'anno scorso, siamo in una buona situazione, Serie B non è un gioco difficile da vincere, è un'unico difficile da vincere, guarda Pallerno l'anno scorso, per me erano l'anno scorso, c'è un'altra squadra che ho giocato, e finito in terza e non vanno in Serie A, quindi la cosa più importante è prendere un gioco a un tempo, e come dicevo, se prendere un gioco a un tempo e trattere ogni gioco il più importante, penso che, come l'anno scorso, sarà una buona decisione. Sì, questa è sempre la domanda, però noi facciamo una partita a volta, Serie B non è facile, guarda Palermo l'anno scorso, secondo me è la squadra più forte contro chi ho giocato, e allora l'anno scorso terzo. Quindi noi prendiamo una partita a volta e speriamo che alla fine arriviamo al nostro obiettivo. La prossima partita è a Cosenza, contro il Cosenza. L'impressione è che ci vogliamo un po' di grinta, stile British, per vincere in quei campi difficili. Quanta grinta British ha questo Verona? Perché è sembrata mancare un po'. La prossima partita è un po' di grinta, è un po' di grinta, è un po' di grinta. È un po' di grinta, è un po' di grinta. È un po' di grinta. No, non manca la grinta, ogni giocatore domenica ha dato 100%, mancava solo un po' di qualità alla fine. Tutta la squadra ha lo stesso obiettivo e la cosa più importante è la squadra. Grazie per la visione!